Il Borussia Dortmund è una squadra fantastica, molto competitiva, attaccano e difendono tutti insieme. Per noi sarà una gara cruciale, di fronte ai nostri tifosi siamo obbligati a fare risultato. L'anno scorso con i punti che avevamo conquistato avremmo dovuto qualificarci per il secondo turno. Non ci siamo riusciti però, forse non abbiamo avuto abbastanza fortuna. Quest'anno quindi sarà fondamentale superare il girone, ma dovremo lavorare sodo per questo. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili per qualificarci, perché sappiamo di essere in un gruppo molto duro. Contro Real Madrid, Borussia Dortmund e Ajax dobbiamo cercare di fare risultato sia in casa che fuori.